Si chiama Rillo Uccio, 17 anni di età rapper, stava ballando e cantando in una pubblica storia di Instagram però si è tutto interrotto bruscamente quando ha tolto la sicura allarma pensate che l'ha puntata su di sé e si è sparato in testa, va bene? Il ragazzino a 17 anni di età è morto nel video fatto per i social network, è diventato via del suo web migliaia le speculazioni su cosa sia effettivamente parlando successo in merito a questo ragazzino così giovane in più sostengono proprio che lui voleva creare qualcosa di particolare, diventare virale su web detto fatto ci è riuscito però ha perso miseramente la vita, solo i 17 anni di età, questo rapper straniero che si chiamava Rillo Uccio grazie a tutti, vi è il video termina qua, iscrivetevi se vi va, Rillo riposo in pace, amén